ciao a tutti mi sono amici nerd benvenuti oggi in questo nuovo video di un minuto perché è finito luglio e io ho mantenuto la promessa di farvi tre video a settimana mercoledì venerdì domenica e sono a batman ok basta e questo video qui non ha senso era solito per dirvelo sperando che vi siano piaciuti se volete segnalarmi qui sotto nei commenti quali vi sono piaciuti i video di tutti così che so quali portarvi cioè riproporvi con nuovi episodi e niente ci vediamo domani che inizia agosto che è mercoledì con un nuovo video agosto sarà così come è stato luglio per poi continuare nei mesi successivi sempre così carichissimi e sì ho i capelli corti quindi adesso sapete che oggi il 31 luglio i capelli corti quindi quando vedrete che nei video i capelli corti vuol dire che è un video che ho registrato da adesso in poi e poi corti aveva insomma c'è adesso mi trovo in questo luogo vabbè luogo insomma ok basta dai anzi oi cacchio voglia